Ben trovati e bentrovate sulla nuova stagione di Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale come al solito è tornato Giacomo Giacquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. Per il primo episodio di questa nuova stagione abbiamo invitato un ospite d'eccezione. Sto parlando di Aurora Donato, avvocata, esperta di diritto amministrativo e autrice del podcast Appalti al Volo. Ciao Aurora, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Michele, è un piacere. È un piacere anche per noi e prima di iniziare ci tenevamo a dirvi che ci siete mancati e speriamo soprattutto di esservi mancati un pochino anche noi anche se nel corso di queste settimane abbiamo comunque avuto modo di sentirci con alcuni di voi attraverso il nostro amato gruppo Telegram e condividere le nostre avventure estive insieme a voi. A proposito vi ricordo che se volete unirvi anche voi e commentare assieme a me, a Giacomo e a tanti dei nostri ospiti la puntata della settimana trovate il link per iscrivervi in fondo alla descrizione di questo episodio. Ma bando alle ciance e tuffiamoci nell'argomento di questa settimana perché vi anticipo che si tratta di una vicenda tanto complicata quanto interessante. Come avrete già intuito dal titolo oggi parleremo di mafia capitale ovvero di quell'associazione a delinquere nata e attiva a Roma la cui esistenza è stata rivelata nel 2014 dall'operazione mondo di mezzo che ha portato all'arresto di ben 37 persone. Si trattava di una vera e propria associazione di stampo mafioso che ha fatto affari leciti e meno leciti con imprenditori corrotti e con dirigenti di aziende municipalizzate e addirittura anche con esponenti politici per ottenere il controllo delle attività economiche e la conquista degli appalti pubblici. A guidare questa organizzazione secondo gli inquirenti sono stati il presidente della cooperativa 29 giugno Salvatore Buzzi e l'ex terrorista di destra Massimo Carminati. Carminati che tra l'altro ha un passato nel terrorismo di estrema destra e che sarebbe l'anello di congiunzione tra organizzazioni criminali, pezzi della politica e del mondo istituzionale e persino membri delle forze dell'ordine e dei servizi segreti. Quindi passerei la palla al nostro Giacomo Giacquinto per chiedergli se gli va di parlarci della storia di questo personaggio tanto affascinante quanto pericoloso. Assolutamente innanzitutto ben ritrovati a tutti gli amici di non spegnere la luce vi sembrerà incredibile ma quello cattivo cattivo è tornato e sono qui per la seconda stagione ringrazio Michele ringrazio tutti voi sul gruppo Telegram ci riempite dei ricomplimenti quindi grazie ragazzi io poi non sono abituato in causa dell'ansia sociale che perplime un po' tutti i giovani però nonostante io non sia più così giovanissimo frequento diciamo lo stesso ambiente. Allora per partire con questa storia e parlarvi di Massimo Carminati e del suo legame con Mafia Capitale voglio partire come non ho mai fatto dal vocabolario treccani con la parola il termine disgusto che all'interno del vocabolario più famoso d'Italia viene definito in questo modo repulsione fastidio senso di stanchezza o di ripugnanza o in termini non comuni dispiacere causa di dispiacere ecco credo che la parola disgusto si applichi bene all'argomento di cui stiamo parlando quest'oggi ma chi è o chi è stato agli inizi della sua carriera Massimo Carminati beh innanzitutto nonostante molta della sua carriera criminale si svolga a Roma non è nato lì ma nasce a Milano e a Roma nella capitale ci va negli anni 60 con la sua famiglia inizia fin da subito a dimostrare il suo tra virgolette passatemi il termine talento per un determinato tipo di carriera soprattutto durante gli scontri di piazza negli anni di piombo il suo prestigio con l'estrema destra nasce proprio in quei giorni perché inizia a trapelare tra coloro che facevano parte di quell'ambiente la sua fama di picchiatore di esperto nelle risse nelle violenze e nelle aggressioni siccome certe cose si denotano fin da subito come diceva Lombroso anche se poi è stato ampiamente superato e sarà a scuola che diciamo creerà le sue amicizie più importanti anche quelle che poi da un punto di vista pseudo laborativo lo aiuteranno nella carriera terroristica perché all'istituto paritario Monsignor Tozzi nella zona di Monteverde frequenta con Alessandro Alibrandi, Franco Anselmi e soprattutto il suo amico di una vita Valerio Fioravanti con cui si incontra spesso anche in un altro luogo famosissimo di quegli anni un bar il bar fungo nella zona dell'euro che era un ritrovo di neofascisti di malavitosi romani e di criminali grazie a queste frequentazioni inizierà a percorrere la strada che lo porterà sia alla militanza politica eversiva sia alla malavita per semplice scopo di lucro e infatti come potete leggere anche in alcuni articoli tra cui uno celebre legato all'espresso la figura di Massimo Carminati viene associata a quella dei mercenari nell'accezione di un tempo non solo Massimo Carminati è una persona che fin da subito mostra il suo talento come abbiamo detto in apertura infatti Valerio Fioravanti che lo considera uno che non ha limiti e non ha alcuna voglia di porseli negli atti malavitosi quindi il sequestro, l'uccisione, la rapina, le piazze di spaccio, le scommesse, i tentativi di usura siccome ritiene che lui abbia tutte queste caratteristiche al massimo del potenziale lo ritiene adatto per farlo entrare nel gruppo che è probabilmente il vero protagonista della nostra storia ovvero i nuclei armati rivoluzionari tanto che viene coinvolto in molte azioni criminali e soprattutto e questo sarà il ruolo per cui sarà indicato per più o meno tutta la sua carriera e farà da intermediario tra i gruppi di estrema destra e la malavita romana grazie anche alle conoscenze che nel corso degli anni aveva accumulato e soprattutto alla sua dimestichezza con le bombe e il materiale esplosivo. Iniziamo a dare qualche data importante per esempio il 27 novembre del 1979 lui ha soltanto 21 anni e insieme a molti esponenti dei nari dell'avanguardia nazionale per esempio Fioravanti, Magnetta, Alibrandi e quindi tutta gente che proveniva dallo stesso anche ambiente scolastico decide di rapinare una banca, la Chesman Attam Bank di Piazzale Marconi sempre zona euro. Per qual motivo? Per autofinanziare il suo gruppo. Parte di quel bottino finirà per il riciclo a Franco Giuseppucci che era il boss della banda della Magliana che infatti grazie proprio a quei soldi effettuerà negli anni 80 la famosa operazione di ripulitura e che verrà arrestato con l'accusa di ricettazione. Non solo, Carminanti partecipa secondo alcune indiscrezioni sempre nel 79 con altri militanti ovviamente di estrema destra tendenti al fascismo per la liberazione di Paolo Aleandri che era un altro giovane neofascista che aveva iniziato da poco a far parte della della famiglia Deinar e a cui Franco Giuseppucci aveva affidato in custodia anche un borsone con delle armi. Probabilmente questa scena potrebbe suonarvi familiare perché una versione simile l'abbiamo nella serie di romanzo criminale in cui il personaggio di Carminanti è associato a il nero. Queste armi venivano utilizzate da diversi esponenti della destra eversiva però andarono dispersi. Aleandri venne sollecitato più volte ma siccome non era stato in grado di restituirlo venne rapito il primo agosto dagli uomini della banda della Magliana. Carminanti e altri militanti si attivarono subito per rimediare altri armi in sostituzione delle originale e dopo un mese di prigionia finalmente Aleandri venne liberato. Pensate, voi direte, beh il traffico di armi è una cosa abbastanza comune nell'ambito malabitoso, sì ma se non fosse che quelle armi che erano due mitra MAB vennero anche riconosciuti, vennero nascosti nei sotterrani del Ministero della Sanità e uno di questi due mitra venne riconosciuto da un pentito, Maurizio Abbattino, forse lo ricorderete, tra le armi che erano state rinvenute sul treno Taranto-Milano, famoso per il depistaggio nei confronti della strage alla stazione ferroviaria di Bologna, quella del 2 agosto dell'80, di cui abbiamo anche parlato in una puntata della prima stagione di Non spegnere la luce. Non solo, un'altra delle nozioni più importanti legate alla vita di Carminati avviene nel 1981, quando si trova in Libano insieme a Inar per sostenere dei falangisti cristiano-maroniti, quelli di Kateb, nella celebre guerra civile contro i palestinesi. Ma saranno proprio i suoi legami con la banda della Magliana a renderlo una delle pietre miliari della storia mafiosa, della storia comunque malavitosa d'Italia, perché decide a un certo punto della sua vita di unire la lotta ideologica all'utilità economica, convogliando tutti i suoi sforzi proprio nelle operazioni della maliana che nella capitale, in quella seconda metà degli anni 70, aveva una vera e propria egemonia. Il suo curriculum militare ben presto lo porta a far parte di quello che è il caso su cui oggi ci concentreremo insieme al nostro ospite, ovvero la mafia capitale, meglio conosciuta come l'operazione Mondo di Mezzo, il famoso termine giornalistico con cui venne definita dalla stampa in quegli anni e che vide come protagonista, oltre a Carminati, anche Salvatore Buzzi nella città di Roma. Anche se, nonostante abbiamo parlato diverse volte a questo, è uno dei miei cruci più importanti, uno dei cruci a cui mi piace cercare sempre di dar da una risposta quando parlo di questo argomento, è che nonostante Carminati e Buzzi fossero legati indissolubilmente con prove alla mano alla malavita, nel 2020 la Corte Suprema di Cassazione Italiana escluse il carattere mafioso, dagli atti criminali, dando come giustificazione, a detta loro, il fatto che i due gruppi fossero totalmente distinti. Come nacque il fenomeno di mafia capitale, così vado a chiusura di questo escursus? Tramite un articolo, un po' come era successo con lo scandalo Watergate, ricorderete sicuramente negli Stati Uniti, il caso Nixon legato poi all'articolo del Post. L'articolo apparve sull'Espresso nel 2012 e venne scritto da Lirio Abbate, in cui veniva ricostruita la spartizione della città di Roma tra diversi gruppi criminali che facevano capo proprio a Massimo Carminati, detto Ercegato, che è un ex terrorista dei NAR e appunto era affiliato alla banda della Magliana. Pensate che il giornalista venne minacciato, come venne riportato anche da alcune intercettazioni effettuate dai ROS e da alcune strumentazioni dei carabinieri, queste stesse intercettazioni portarono a un arresto il 2 dicembre del 2014 di 28 indagati, tra cui proprio Carminati e Salvatore Ibuzzi. Tra i reati che vennero ipotizzati dalla procura della Repubblica di Roma, in cui il magistrato che guidava le indagini era Giuseppe Pignatore, furono corruzione, estorsione, riciclaggio, associazione di stampo mafioso, usura, tutto, e questa è la parte più grave e più seria, nell'ambito di alcune infiltrazioni all'interno del tessuto istituzionale e imprenditoriale della città attraverso, e qui possiamo passare a chi sicuramente ne sa molto meglio di me, attraverso l'assegnazione illecita di appalti e finanziamenti pubblici da parte di Roma Capitale. Grazie Giacomo, non era assolutamente semplice racchiudere tutto in un singolo intervento. Ma sai è un argomento bello vasto, bello interessante, infatti non vedo l'ora di ascoltare la nostra ospite. Sì, è stata difficile ricostruirlo, però ecco è stato anche molto interessante, infatti adesso che torniamo dalla nostra ospite volevo parlare con lei proprio di questo, di una cosa che mi ha colpito in particolare del personaggio di Carminati, mentre lo stavo studiando appunto, è il fatto che lui sembra avere una sua filosofia. Esiste un'intercettazione ambientale in particolare in cui la espone al suo braccio destro brugia quasi come se fosse una critica della ragion pratica criminale. Quindi la mia domanda per te, la prima domanda per te, Aurora, è cosa intende Carminati quando parla del famoso mondo di mezzo e soprattutto cosa c'è sopra e cosa c'è sotto a questo mondo di mezzo? Effettivamente sì, la vicenda è complicata, la vicenda di mafia capitale, perché poi questi grandi processi si compongono di mille rivoli che si incrociano, però appunto quello che è rimasto poi nella memoria collettiva è proprio questa frase di Carminati che tu citi, è proprio la figura di Carminati in qualche modo. Infatti diciamo ecco, è proprio la figura di Carminati secondo me così colorita in qualche modo a caratterizzare tutta questa vicenda. Lui dice noi siamo il mondo di mezzo, lui definisce se stesso come il mondo di mezzo dicendo anche sopra ci sono i vivi, sotto ci sono i morti, noi siamo nel mezzo, questa mi sembra sia più o meno il tenore della frase, cioè il mondo di mezzo, il punto d'incontro tra gli interessi da una parte della politica, dell'imprenditoria, no? Il mondo di sopra, il mondo, il bel mondo, dei colletti bianchi e di quelli in giacca e cravatta diciamo e dall'altra parte quelli della gli interessi della criminalità organizzata, cioè dei criminali verrebbe a dire dei criminali veri, ma sono criminali anche gli altri in qualche modo, no? Però appunto diciamo la cosa proprio che secondo me caratterizza questa vicenda e ce la fa ricordare in modo particolare perché poi la storia dell'Italia purtroppo è piena di storie di corruzione legate agli appalti e insomma di legami tra la pubblica amministrazione, la politica e la criminalità organizzata. È proprio questa figura così colorita, no? Abbiamo, come ha raccontato Giacomo, un soggetto che nel suo passato ha in arre la banda della della banda della Magliana. Detto il cecato, cioè non è il tipico imprenditore che dà qualche mazzetta per aggiudicarsi qualche appalto, no? Diciamolo, il cecato perché gli mancava un occhio, era stato ferito in uno scontro a fuoco durante la sua militanza e quindi effettivamente incuteva già questo, un certo timore reverenziale, gli dava un'aura, un'aurea da pirata quasi, questo era un altro dei suoi soprannomi. Però ecco allora la tua risposta è stata molto esaustiva e io ti volevo portare proprio qui perché la cosa interessante di questa inchiesta è che nonostante il suo rapporto di derivazione con la banda della Magliana, Mafia Capitale ha assunto una fisionomia che si può dire sia del tutto originale, raggiungendo quindi uno stadio evolutivo avanzato nel quale il ricorso alla violenza e reati tipici delle organizzazioni mafiose è ridotto veramente al minimo indispensabile e potremmo dire quindi che il vero core business dell'associazione fosse rappresentato principalmente dagli affari e dagli affatti pubblici. Ecco, come è avvenuta secondo te questa trasformazione? Ma infatti appunto diciamo poi la storia di Carminati in qualche modo cambia quando lui incontra, mi sembra fosse detto appunto in un bar dell'Eur, si hanno organizzato questo incontro con Buzzi che anche se da giovane era stato in carcere per un accoltellamento a quel punto è più un criminale col colletto bianco, cioè è un soggetto che gestisce molte cooperative sociali attive nella gestione di servizi come l'igiene urbana, la manutenzione del verde, l'accoglienza dei migranti e che già di suo applica alcuni metodi e a quel punto diciamo con l'incontro con Buzzi c'è un po' questa svolta in qualche modo in cui il cecato abbandona un po' i metodi più fisici. In realtà la Cassazione, come ha detto Giacomo, ha escluso l'associazione mafiosa dicendo che in qualche modo sì non erano legate le due associazioni, in qualche modo quella più di Buzzi e quella più di Carminati, cioè i due livelli, ma perché non erano legate? Cioè perché Buzzi non ha dovuto più di tanto, scusate Carminati, non ha dovuto più di tanto utilizzare i suoi strumenti tipici dell'estorsione della violenza verbale, della violenza fisica? Perché in realtà non c'è stato bisogno, sembrerebbe dalla sentenza della Cassazione, cioè dice proprio questa sentenza che c'è un quadro di collusione generalizzata e non viene messa in campo la carica intimidatoria tipica dell'associazione mafiosa perché in qualche modo loro hanno trovato un terreno talmente fertile in cui non si è reso necessario, dice proprio questa la sentenza della Cassazione, l'utilizzo del metodo intimidatorio mafioso, cioè che alla fine voglio dire è anche peggio da un certo punto di vista, cioè Carminati è un criminale che fa il suo, fa le estorsioni, le armi, le cose, no? Ma i funzionari pubblici che si vendono per qualche migliaia di euro un orologio o un posto nella cooperativa alla figlia, che poi se vai a vedere negli scambi si parla di questo, insomma voglio dire dal mio punto di vista eh mi sembra ancora più triste, no? In qualche modo che che non ci sia stato bisogno di andarli a minacciare questi funzionari pubblici ma è bastato regalargli un orologio e quindi alla fine in realtà in questa storia il povero Carminati viene da dire è più una figura che serve a dare colore alla vicenda, aumentare l'allarme sociale, no? Perché in qualche modo i criminali, quelli col colletto bianco, no? Scioccamente magari ci restano meno impressi, quando forse sono pure più pericolosi. Invece il cecato poi, no? Ce lo ricordiamo tutti. È interessante questo questo punto di vista perché in effetti lui è un personaggio molto sanguigno, sembra quasi di poterlo conoscere dal numero di intercettazioni che abbiamo a disposizione, che comunque è una cosa rara di per sé, non è così facile conoscere così da vicino un personaggio del genere. E tra l'altro ci sono anche degli stralci in cui si lamenta il processo di romanzo criminale, di tutte le fiction che sono state ispirate a lui e da lui. Quindi può essere, può essere insomma che sia stato utilizzato un po' come capo respiatorio, anche se quello che ci dicevamo con Giacomo prima di iniziare a registrare è anche il fatto che è un po' una paraculata dire, ok ma tutte, se fuori è tutto mafia, allora non la riconosciamo come associazione di stampo mafioso. Cioè mi sembra, mi sembra un po' un puntare, guardare il dito mentre si indica la luna. Ma noi sappiamo anche che la forza dell'organizzazione di mafia capitale deriva da un lato dalla famosa compartimentazione che Carminati aveva ereditato dalla militanza tra i terroristi di estrema destra e dall'altro dalle sue ramificazioni in diversi settori della società, l'abbiamo detto, come la pubblica amministrazione, le imprese e la malavita comune. In questa diversificazione ha giocato un ruolo chiave un altro protagonista che citavamo poco fa, cioè Salvatore Puzzi, che appunto attraverso una rete di cooperative gestiva le attività economiche di mafia capitale nei settori della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, dell'accoglienza dei profughi, della manutenzione del verde pubblico e molte altre cose. Ma esattamente questo in che modo avveniva e perché Puzzi era una pedina così importante per mafia capitale? Sì, in effetti Michele, come tu dicevi, Puzzi è il ramo imprenditoriale di Roma Capitale perché gestisce tutte queste cooperative sociali che si occupano di questi servizi che tu richiamavi, che poi sono oggetto di appalti pubblici, cioè di acquisti da parte della pubblica amministrazione. Purtroppo gli appalti si prestano bene a finire al centro di vicende di corruzione perché si tratta di spendere denaro pubblico, spesso anche somme molto ingenti e quindi diciamo questo purtroppo gli appalti finiscono sui giornali per vicende di varie entità, dalle piccole vicende, a quelle più di sistema come poi appunto è stata mafia capitale. La cosa interessante della vicenda di mafia capitale è che la Cassazione ha sottolineato quello che poi è un principio affermato più volte che appunto pur essendovi, pur configurandosi il delitto di corruzione, spesso gli atti compiuti in realtà presi singolarmente non sono neanche illegittimi, cioè sono atti che magari davanti al giudice amministrativo non sarebbero neanche considerati illegittimi, ma per configurare reato di corruzione chiaramente dipende dalla volontà del pubblico ufficiale perché io posso decidere di affidare in via diretta un servizio di un importo contenuto a un operatore economico senza fare una gara, questo è previsto per alcuni importi più ridotti ovviamente, è consentito dalla legge, ma se io lo affido a quell'operatore perché ritengo che sia l'operatore più adeguato, perché per ragioni d'urgenza ho individuato quello, cioè ci possono essere tante ragioni, allora quel provvedimento è legittimo, ma lo stesso esatto provvedimento se io l'ho adottato perché il rappresentante di quella cooperativa mi ha regalato un orologio, mi ha versato 5.000 euro, ho assunto mia figlia a lavorare nella sua cooperativa, allora chiaramente a quel punto lo stesso provvedimento, la stessa decisione diventa appunto l'occasione di un reato grave come la corruzione e quindi noi vediamo nell'ambito appunto dell'inchiesta di mafia capitale, una serie di atti che palesemente costituiscono nella violazione dei doveri di imparzialità, quindi l'affidamento magari di appalti che non dovevano proprio essere affidati alle cooperative di Buzzi, ma anche una serie di atti, cioè voglio dire che quasi fanno simpatia nel senso che per esempio spesso Buzzi si è attivato per sollecitare dei pagamenti, pagamenti che gli erano dovuti e quindi diciamo spesso le cooperative sociali romane ma tante imprese in tutta Italia si trovano a dover aspettare molto per i pagamenti a parte della pubblica amministrazione, quindi diciamo in qualche modo l'amministrazione era in difetto, è ovvio che se io per sbloccare quel pagamento che mi sarebbe anche dovuto appunto ti regalano un Rolex, ovviamente diciamo si tratta di un reato e quindi la simpatia voglio dire svanisce e si finisce anche davanti al tribunale penale. Però ecco questo è un po' il quadro, in realtà vedere i singoli appalti e le singole decisioni prese in qualche modo non è un sistema ma spesso si tratta di piccolezze, questo voglio dire, cioè abbiamo ipotesi di violazione del segreto d'ufficio, abbiamo insomma sono tante piccole cose, la cosa al di là degli elementi di colore la cosa davvero grave è nel convolgimento sistematico dell'amministrazione capitolina e anche di cariche politiche come addirittura l'ex sindaco di Roma alemanno, cioè è un po' il cumulo di tutte queste vicende che danno l'impressione di un'organizzazione degli appalti a Roma un po' allo sbando, ecco diciamo, che poi chiede il settore, l'abbiamo sempre saputo che dei problemi c'erano, ecco. Ecco Aurora, tu hai citato un personaggio che tutti quanti conosciamo, tra gli indagati di mafia capitale con l'accusa di corruzione aggravata, finanziamento illecito e inizialmente anche associazione mafiosa, c'è l'allora sindaco Gianni Alemanno che sarà poi rinviato a giudizio per i reati di corruzione e finanziamento illecito ai partiti chiaramente in un procedimento separato. Ma qual è stato il suo ruolo in questa vicenda se ne ha avuto uno e come è possibile che la corruzione abbia raggiunto livelli così alti della cosa pubblica? Tu lo dicevi prima, era qualcosa di pervasivo, però arrivare fino a un sindaco non è una cosa che capita tutti i giorni di sentire. No, assolutamente, tra l'altro la posizione di Alemanno è stata poi separata dal procedimento principale e insomma alla fine, se non mi sbaglio, i reati di cui era accusato riguardavano appunto il ipotesi di finanziamento illecito delle sue attività politiche in cambio di, diciamo, credo che il reato poi fosse quello di traffico di influenze, fosse stato poi riqualificato. Questo reato di traffico di influenze in realtà è un reato interessante che può essere anche abbastanza utile per, diciamo, limitare la corruzione in ambiti come quello degli appalti perché, diciamo, va a sanzionare una condotta anche di chi non sia proprio il corrotto ma una sorta di mediatore che compiatti diretti a creare le condizioni per commettere i delitti di corruzione, quindi anche solo condotte preparatorie. Questo in situazioni come quella, un po' di sistema come quella di mafia capitale può essere, può essere, diciamo, uno strumento utile per il giudice, per il giudice penale. Ecco, è stato introdotto una decina d'anni fa, è un reato nuovo, interessante, ecco, da questo punto di vista. A proposito dei livelli di corruzione, un'altra cosa che volevo chiederti, dato che immagino che tu la veda tutti i giorni da vicino, non la corruzione ma quest'altra cosa, è come siamo messi oggi in Italia dal punto di vista della salute della nostra pubblica amministrazione e degli appalti pubblici. Questa è una domanda da un milione di dollari. Diciamo che gli appalti finiscono sempre sui giornali perché qualcosa va storto, questo è normale. in Italia basta pensare che l'autorità che si occupa degli appalti pubblici, ma di tutti, tutti gli aspetti degli appalti pubblici, quindi anche, voglio dire, della gestione di alcuni sistemi informatici e anche di aspetti di ordinaria amministrazione, è l'autorità nazionale anticorruzione, l'ANAC, cioè noi abbiamo un'autorità che si occupa degli appalti che non si chiama autorità dei contratti pubblici, ma si chiama autorità anticorruzione. Questo, ecco, è emblematico. Degli appalti poi si occupa spesso, oltre che il giudice penale, anche la Corte dei Conti che appunto giudica la responsabilità per il danno erariale che i pubblici agenti possano arrecare all'amministrazione, è un giudice molto temuto e quindi spesso gli appalti finiscono oltre che davanti al giudice amministrativo, che è la cosa, diciamo, normale per delle illegittimità della procedura, violazione di norme di legge, eccetera, su iniziativa. di altri concorrenti nella procedura, spesso appunto gli appalti finiscono, diciamo, davanti a questi altri soggetti. Purtroppo la disciplina degli appalti in Italia è molto densa di formalità, è molto pesante, proprio nell'ottica di cercare di contrastare fenomeni di questo tipo. Cioè, basta pensare agli accertamenti antimafia, che sono una parte importante di queste procedure. in altri paesi europei non c'è tutto questo procedimento particolare che c'è in Italia per, appunto, le verifiche previste dalla normativa antimafia, che negli appalti sono parte normale dello svolgimento del procedimento. Quindi, diciamo, per un verso l'ordinamento cerca di contenere questi fenomeni, per un altro a volte viene il dubbio che proprio tutta questa complessità, in qualche modo, che la corruzione tenda poi a dilagare proprio nell'eccesso di regole, nell'eccesso di attori. Cioè, più persone sono coinvolte in un procedimento, statisticamente più rischi ci sono. Nelle organizzazioni disordinate, cioè, voglio dire, a Roma, la gestione degli appalti è tutta decentrata. Cioè, se ne occupano i singoli municipi e se ne occupano i singoli dipartimenti. Ora, molti se ne occupano in maniera impeccabile, ovviamente, non voglio dire. Però, diciamo, questa complessità è di per sé, può essere di per sé problematica. Ora, io non sono di quelle che invocano la semplificazione come slogan a tutti i costi. Gli appalti sono procedure necessariamente complicate, perché bisogna valutare delle offerte complesse, bisogna scegliere con chi spendere il denaro pubblico, ed è giustamente una scelta complessa. Però, effettivamente, alcune cose, come appunto l'utilizzo di portali telematici, che quindi rendono tutto molto più tracciabile, ma anche, appunto, sicuramente un miglioramento delle procedure che si cerca sempre di fare. Cioè, proprio adesso hanno adottato una nuova legge delega e probabilmente l'anno prossimo avremo un altro codice degli appalti. Questo, in realtà, secondo me, peggiora le cose, perché cambiare continuamente le norme, no? Certo, non è, come dire, la strada per la certezza e la semplificazione. Però il problema del quadro è questo, ed è anche quello del fatto che ci sono tante stazioni appaltanti, cioè le amministrazioni che bandiscono le gare, sono tante, e non si è investito abbastanza sulla loro qualificazione. Quindi, queste sono caratteristiche di un sistema che sicuramente agevolano lo sviluppo di questi fenomeni. Dopodiché, chiaramente, lavorando io con gli appalti, ci tengo a dire che non sono di per sé gli appalti il male. Cioè, gli appalti sono molto importanti nel nostro paese. Cioè, l'amministrazione acquista cose per poter funzionare, acquista cose per la collettività, voglio dire, dal, appunto, il centro che si occupa di anziani, di persone con disabilità, no? Le siringhe negli ospedali, il manto stradale, sono tutti appalti pubblici. E, voglio dire, ci sono tante imprese che lavorano onestamente, tantissime cooperative sociali. Ci tengo a sottolinearlo, visto che abbiamo parlato di questo, che fanno cose molto buone, grazie anche ai rapporti con la pubblica amministrazione. Ora si sta diffondendo una nuova tendenza a valorizzare gli aspetti sociali negli appalti pubblici. Ecco, cioè, voglio dire, non si può vivere senza appalti, per come funziona oggi il paese. Quindi, dire appalti uguale mafia, uguale corruzione, ovviamente, è troppo semplicistico. Certo, è un problema grosso. Come spesso accade quando ci si rapporta con la pubblica amministrazione, perché, diciamo, non è che in altri ambiti le mazzette non ci sono. Però, ecco, come dire, cioè, non è tutto lato oscuro, ecco. Ma, sono d'accordissimo. Non sono gli appalti il problema, perché gli appalti sono sempre uno strumento che viene utilizzato per fare le cose che servono ai cittadini. Il problema è a chi vengono affidati. E quindi, riguardo questo, volevo chiederti, Aurora, tu mi hai parlato di codice degli appalti, regolamentazione, ok, ma non credi che ci sia anche un problema a livello culturale nel nostro paese nel, appunto, nel fatto stesso di quello che dicevamo prima, cioè che a Roma la corruzione fosse così diffusa da creare un terreno addirittura fertile per poi quella che è stata mafia capitale. Non credi quindi che ci sia un problema ancora prima culturale alla base? Sì, ma il progresso culturale in questi casi probabilmente non basta, secondo me, perché c'è un elemento materiale molto radicato e molto forte, purtroppo. Quindi sicuramente, ecco, diciamo, i funzionari pubblici italiani probabilmente meriterebbero anche un contesto migliore. Dovrebbero essere sicuramente loro i primi a non, diciamo, a gestire la cosa pubblica, ma al di là degli episodi di corruzione, diciamo, sarebbe bello che chi gestisce la cosa pubblica lo faccia sempre con un minimo di sacralità, no? Perché stanno spendendo soldi di tutti noi, stanno prendendo decisioni che impattano su tante persone. Ora moltissimi lo fanno, moltissimi svolgono il loro lavoro con grande serietà, ovviamente non tutti, e in Italia forse c'è anche una tradizione negativa su questo. Va anche detto che forse migliorare anche le loro condizioni di vita, in alcuni casi potrebbe anche renderli meno tentati da certe scorciatoie. E per quanto riguarda gli appalti, io mi confronto spesso con amministrazioni in serie difficoltà, al di là di episodi con rilevanza penale, ci sono difficoltà, carenza di formazione, carenza di qualificazione, condizioni proprio concrete, difficili, in cui queste gare poi si trovano a essere svolte. E il caos aumenta, cioè il caos purtroppo è sempre tanto. E nel caos poi fermentano anche i comportamenti illeciti, no? E passano inosservati più facilmente. Esatto. Va bene, va bene. Allora io tornerei un attimo dal nostro Giacomo Giacquinto per sapere lui cosa ne pensa di tutto quello che ci siamo detti finora e soprattutto per capire se ci sono dei film o dei documentari relativi alla vicenda di Mafia Capitale. Ma tu perché mi fai queste domande? Perché mi chiedi che cosa ne penso? Ti piace? Ti piace questo momento in cui io do sfogo al mio spirito anarchico? Perché prima mentre parlavamo a microfono spento mi hai detto eh ma io penso questo, quell'altro e allora lo diciamo davanti a tutti. Va bene, va bene, dai lo faccio. Innanzitutto vorrei fare i complimenti ad Aurora per, va bene, innanzitutto la sua professionalità ma io sono un idiota qualunque quindi non conta granché ma per quello che ha detto in merito a un discorso di cui parlavamo proprio io e Michele in apertura, in sua attesa ovvero la Corte di Cassazione che nel 2020 non riconosce più lo stampo mafioso all'interno dell'inchiesta per Mafia Capitale. Per me, giustamente come ha detto Aurora, è ancora più grave cioè addirittura non c'è lo stampo mafioso ma quindi la corruzione arriva ai livelli di un orologio e questa è l'ideologia politica si vende davvero il prezzo di un'ideologia può essere un orologio tra l'altro parliamo, lasciando perdere quelli che poi sono stati gli anni successivi Carminati si forma durante gli anni di piombo quindi anni anche di forti ideologie, di grossi contrasti ideologici violenti, legati al terrorismo, tremendi e poi siamo arrivati a un momento in cui tutte le lotte che si facevano con un'idea in testa sono diventate a chi ha l'orologio più bello chi ha il Rolex d'oro più interessante da vendere e questa cosa io la trovo squallida e del motivo per cui ho aperto dicendo come la Treccani rileva il termine disgusto. per quanto riguarda invece il mio ambito ovvero quelli che sono il cinema e le serie tv beh ovviamente come non citare il romanzo criminale il romanzo innanzitutto di Giancarlo De Cataldo bellissimo, vi consiglio di leggerlo anche se non fate parte del capitale come zona di nascita o di vita nel film del 2005 diretto da Michele Placido il personaggio del nero è interpretato tra l'altro da uno strano Riccardo Scamarcio mentre il grandissimo doppiatore Emiliano Coltorti ne approfitto per salutare il padre Ennio che è stato il mio maestro di recitazione nella serie televisiva di Solima inoltre non tutti sanno che sempre un altro libro di Giancarlo De Cataldo che poi è diventata una serie e un film ovvero Suburra il personaggio del Samurai interpretato da Claudia Mendola nel film e poi nella serie da Andrea Molaioli e poi da Giuseppe Capotondi in cui il personaggio poi è interpretato da quel bravissimo attore che è Francesco Acquaroli secondo me molto sottovalutato il personaggio del Samurai è proprio ispirato alla figura di Carminati mentre per quanto riguarda Mafia Capitale beh ovviamente il mio consiglio massimo perché secondo me è molto bello sia la serie che il film è proprio Suburra di Solima e la serie di Michele Placido Molaioli e Capotondi come vi dicevo prima questi sicuramente poi tra l'altro ovviamente ci sarà sicuramente uno speciale di Blu Notte e chi Michele meglio di te può dircelo su questa vicenda io credo che in questo momento il cinema, anche il cinema questa è un po' una mia diatriba generale ovvero che il cinema e le serie televisive si siano dimenticate di un argomento così importante probabilmente per non soffrire di recentismo ma credo che sia fondamentale in questo momento poter parlare di un argomento così importante vista anche la situazione politica attuale nel nostro paese è ancora presto secondo me tu su dici che c'è ancora del recentismo legato alla vicenda dagli qualche anno poi ci faranno qualcosa una serie Netflix eh ma la serie Netflix già cioè l'hai citata su Burra sì assolutamente non dico proprio un prodotto sai di quelli ufficiali ah sì 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 tipo Sampa esatto bravissimo bravissimo sì 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 tra l'altro Francesco Acquaroli bravissimo bravissimo attore eccezionale attore eccezionale io lo ricordo anche sempre legato un po' a Roma anche se lì poi si trasferisce al nord Rocco Schiavone la serie bellissima con Gendini dove lui è anche lì eccezionale tra l'altro è anche un podcaster è diventato un podcaster di recente sì ho ascoltato dei suoi audiolibri anche è molto bravo però qui stiamo divagando torniamo dalla nostra scusatemi scusate eh allora ti facciamo la nostra ultima domanda come da rito ormai e poi chiudiamo dopo queste belle cicale che avete sentito siamo ancora in piena estate però noi abbiamo già iniziato questa nuova stagione di non spegnere la luce e andiamo a concludere questo primo episodio chiedendo alla nostra ospite mafia capitale è un fenomeno finito o c'è il rischio di eventuali ricadute magari non si chiameranno mafia capitale ma io sono certa che in questo momento in cui noi stiamo parlando da qualche parte in Italia molto probabilmente qui nella mia città a Roma c'è qualcuno che sta corrompendo un funzionario pubblico probabilmente per eh in relazione a un appalto pubblico purtroppo eh sottolino quello che avevo detto prima sul io non amo la la drammatizzazione ehm di questo fenomeno però ci dobbiamo dobbiamo dirci la verità e quindi eh altro che altro che ricaduta secondo me l'Italia non è mai guarita da fenomeni come mafia capitale quindi come era quella cosa lì ogni mattina un funzionario pubblico si sveglia eh già parecchi orologi in circolazione se mi permettete a chiosa diciamo del mio intervento se volete saperne di più su questo argomento da un punto di vista prettamente narrativo consiglio a tutti da cui poi è stata anche tratta una serie orrenda quindi quella non guardatela il libro The Dome di Stephen King dove viene affrontata una sorta di mafia capitale al di sotto di una cupola in un mondo un po' più fantasy ma ve lo consiglio vivamente grazie Giacomo e grazie tantissimo anche alla nostra ospite Aurora Donato per essere stata qui con noi è stato un piacere e non vedo l'ora di ascoltare questa nuova stagione di Non spegnere la luce eh arriverà arriverà molto presto questo è il prossimo episodio tra una settimana e quindi io a questo punto vi ricordo che se volete interagire con noi nel frattempo e commentare questa puntata insieme a me Giacomo e ai nostri ospiti potete unirvi al gruppo Telegram che trovate in descrizione in fondo a questo episodio e se state ascoltando da Spotify o da Apple Podcast potete lasciarci una recensione sia positiva che negativa e quindi vi ringrazio per essere stati qui con noi per averci ascoltato fino a questo punto e io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ricordo nel frattempo di non spegnere la luce di non spegnere la luce di non spegnere la luce